C'è un ragazzo che nonostante la giovane età ha lasciato tracce nel cuore di molti. Quel ragazzo noi oggi vogliamo ricordarlo e si chiama Carlo Acutis. E abbiamo la gioia, la fortuna e l'onore di avere qui in studio la mamma di Carlo, Antonia, Giacomo. Quindi ti lascio e mi sposto al centro dello studio proprio per dare il buongiorno e il benvenuto ad Antonia Salzano. Buongiorno Antonia e grazie per essere qui stamattina. Buongiorno a tutti. Noi partiamo dal tuo libro, è uscito da poco, è edito da APM, Il segreto di mio figlio, perché Carlo Acutis è considerato un santo. Partiamo proprio da qui. Perché Carlo è considerato un santo? Ma diciamo che la Chiesa ha dei criteri, innanzitutto si è avvissuto il candidato, le virtù in grado eroico. Le sette virtù, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Ecco, la virtù è un'attitudine stabile della volontà al bene e chiaramente questa è la cosa principale. Poi ho chiaro che la fama di santità, il fatto che Carlo viene pregato in tutto il mondo e abbiamo sempre attestazioni di grazie, possibili miracoli, comunque ci arrivano segnalazioni da tutto il mondo. Ecco, questo sicuramente è un criterio. Però diciamo quello che conta è come ha vissuto la vita. Ecco, sicuramente Carlo una cosa è certa, che al primo posto ha sempre messo Gesù e il suo motto era non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio e Cristo è sempre stato il centro della sua vita. Lui aveva una vita ordinaria, tutto sommato, come tutti noi, no? Però una vita ordinaria che è diventata straordinaria perché ha saputo spalancare le porte a Cristo come invitava a fare Giovanni Paolo II senza avere paura e tutto ciò che faceva lo faceva in Gesù, per Gesù e con Gesù. Antonia, noi ormai siamo abituati a sentirti parlare di Carlo. Sono passati un po' di anni dalla sua morte e vediamo spesso le immagini di Carlo sorridente, Carlo che balla, l'abbiamo visto anche adesso passare. Carlo che a casa vostra, io ovviamente non l'ho conosciuto, ma da quello che ho letto dal libro, da quello che ho imparato in questi anni, è stata un po' la colonna portante della vostra famiglia. Ma ti sei mai chiesta da dove gli arrivava tutta questa fede? Purtroppo sono quei misteri insondabili che uno si chiede, ma chissà perché. Sicuramente Carlo sin da piccolino è stato sempre un bambino molto gioioso, pieno di vita, generosissimo, obbedientissimo, perché questo lo devo dire, perché è un merito grosso oggi che si fa fatica a obbedire. Un ragazzo veramente solare, sempre allegro, io non l'ho mai sentito parlare male di nessuno, mai fare lamenti, mai capricci. Sicuramente ero un ragazzo veramente speciale e questo a noi era già balzato nell'occhio, perché ovviamente vivendoci accanto, infatti ci chiedevamo, certo un po' un ragazzo speciale, lo dicevamo spesso io, mio marito, i nonni, è un ragazzo veramente particolare. Ecco, io addirittura quando era piccolino lo chiamiamo il piccolo buddino, perché mi sembrava proprio illuminato, cioè un bambino proprio speciale. Poi questa fede che aveva, quest'amore per Gesù, sin da quando era piccolo voleva sempre entrare nelle chiese, salutare Gesù, il crocifisso stava lì le ore, dicevo ma Carlo dobbiamo andare via, adesso no mamma fammi stare. Ecco, diciamo che è veramente bellissimo questo. Però è chiaro che come tutti i ragazzi, anche lui ha fatto il suo percorso di santificazione, per esempio era un pochino chiacchierona a scuola, perché questa esuberanza ovviamente, questa simpatia, però lui si è in posto, si metteva i voti, come mi comporto con i maestri, come mi comporto con i compagni, ecco fatto pure lui i suoi, aveva un diario dove si metteva i voti, poi non so, la gola un pochino, ecco, questa temperanza che ogni tanto, e allora si era in posto che non mangiava fuori pasto, veramente bravo, da solo faceva tutto, ecco, io non gli ho mai dovuto dire qualcosa, fai questo Carlo, fai compiti, hai studiato, perché lui era responsabilissimo, ecco, veramente un bambino particolare, e poi certo, diciamo che come tutti noi ha fatto il suo cammino, io dico sempre che, e lui diceva sempre che la sua, quello che senza Gesù non possiamo fare nulla, e lui diceva che l'Eucaristia era la sua autostrada per il cielo, e infatti a sette anni fece la prima comunione, e da allora tutti i giorni Santa Messa, Adorazione Eucaristica, prima o dopo la Messa, e poi la Madonna non poteva mancare la recita quotidiana del Rosario, che per lui era veramente l'incontro con la donna della sua vita, diceva che la Madonna era l'unica donna della sua vita, poi lui aveva pure un po' un modo di scherzare, però sicuramente quando lo diceva intendeva questo, e poi anche, siccome lui diceva che la nostra meta è il cielo, e poi i mezzi per raggiungere questa meta sono i sacramenti e l'orazione, e poi diceva che la bussola è la parola di Dio, e lui si confrontava sempre con la parola di Dio, perché lui diceva che era importantissimo capire quello che ci dice il Signore, quello che ci dice la parola quel giorno, ecco, quindi per lui questi erano i pilastri della sua giornata, però poi questo non gli impediva di occuparsi di volontariato, aiutava gli anziani, ha servito in alcune mense dei poveri, madre Teresa di Calcutta, c'erano le suore a Milano a Baggio, ma poi i gesuiti per il volontariato, ecco l'hanno coinvolto in tante attività, e poi soprattutto l'attenzione a quelli che noi vivendo in centro a Milano, i poveri, perché ce ne sono tanti purtroppo, come dice Papa Francesco, e Carlo che cosa faceva? Carlo si faceva proprio come una caritas domestica, allora si era organizzato quei recipienti, portava da mangiare, portava da bere, portava i saccappeli, portava le coperte, poi si era organizzato con dei fogli dove aveva scritto tutti gli indirizzi delle mense, dove si potevano fare le docce, dove si poteva per esempio prendere degli abiti usati, ecco perché queste persone che vengono per esempio straniere, spesso non sanno a chi rivolgersi, sono completamente spersi, e Carlo veramente questo lo faceva col cuore, infatti in un certo senso Carlo rompeva un po' quelli che erano gli schemi della maggior parte dei milanesi, che purtroppo sono presi dagli affari o dai loro impegni, e allora Milano è una città che spesso sembra dimenticare quelli che sono i rapporti umani. Antonia, tu ci racconti di una vita di Carlo strapiena, ti ha lasciato anche un'eredità grande da portare avanti, un impegno quotidiano immagino bello e importante, arriva però un momento nella vita di una mamma che immagino sia il più complicato, quello della scoperta della malattia di Carlo, se oggi siamo qui a parlare della santità di Carlo è perché Carlo non c'è più, è una cosa di cui tu parli poco, della malattia di Carlo, però anche in questo lui ha avuto fede, ha vissuto con la fede quei momenti. Ma guardi, io le dico sorprendentemente, Carlo sin da quando era piccolo diceva che sarebbe morto con una vena che gli si rompeva nel cervello, da piccolino, io dico ma Carlo cosa dici? E invece in effetti lui è morto di una emorragia cerebrale causata da questa leucemia fulminante che si è manifestata in una settimana neanche. Diciamo che Carlo poco prima di ammalarsi, sembrava un banale raffreddore all'inizio, questa leucemia si celava dietro questa influenza che tra l'altro aveva colpito metà della sua classe. E Carlo disse una cosa strana, offro le mie sofferenze per il Papa, la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in Paradiso. E noi pensavamo, siccome lui era sempre molto giocoso, gioioso, non si capiva bene, uno non va a pensare certo che sarebbe morto da lì a pochi giorni. E lì per lì non demmo tanto peso. Poi però riflettendo abbiamo capito che lui è come se si sentì. Perché quando era piccolo, anche poco prima di morire, qualcuno gli chiedeva ma tu cosa vuoi fare da grande? Lui diceva ma chi lo sa se saremmo ancora vivi, quanto vivremo, occupiamoci del momento presente. Tanto queste cose le sa solo Dio. Cioè erano discorsi particolari perché certo era come se lui sentisse che il tempo era prezioso. Diceva ogni minuto che passa è un minuto e meno che abbiamo per santificarci. E sicuramente, diciamo, il fatto che due mesi prima si era autofilmato con un video che poi, tra l'altro, è stato oggetto di un documentario che ha prodotto il Centro Televisivo Vaticano, lui dice quando peso 70 kg, fa un bel sorriso, guarda il cielo, dice sono destinato a morire. E in effetti questo per me era un po' un testamento perché lo ha fatto due mesi prima. È come se lui sentisse questa... E poi quando, diciamo, lo portai in ospedale mi disse mamma io da qui non esco vivo, preparati. Ma gli dice ma io ti darò tanti segni, non ti preoccupare, stai tranquilla. Lui lo sapeva che io ero... Perché capisce, è un figlio unico per me. Lui capiva che per me era una grossissima prova, ecco, se l'ha reso conto. Ma Carlo, per Carlo, la morte era il passaggio alla vera vita, l'incontro con Gesù, l'amato. Ecco, la morte di Carlo è stato il coronamento di una vita dove il Cristo era il centro. Quindi lui l'ha vissuta con cristiana, diciamo, fede, ecco. Per lui dice, lui diceva noi siamo come bruchi che dobbiamo diventare farfalle, ecco. E quindi per lui la morte era questo. Certo, penso che la cosa che più gli è dispiaciuto è il dolore di noi genitori. Però ci ha dato tanti segni, tante belle cose. Tanti segni e tantissime emozioni. E soprattutto continua ancora oggi a essere vivo e presente tra noi, tra le tante persone che ti contattano per le preghiere, per le grazie ricevute, per tutto l'affetto che Carlo è riuscito a dimostrare in tutto il mondo. Tutto questo lo vediamo però tra un attimo perché prima vogliamo tornare a poco più di un anno fa ad Assisi, quel giorno in cui c'è stata proprio la beatificazione di Carlo Acutis. Dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo che il venerabile Servo di Dio, Carlo Acutis, laico, d'ora in poi sia chiamato Beato. Grazie a tutti. L'emozione di quel giorno ci porta direttamente dall'altro lato del mondo, ci porta in Brasile, in una piccolissima parrocchia dove c'è un ragazzino, un bambino che sta soffrendo tanto e la parrocchia che aveva sentito parlare di Carlo dice proviamo a pregare questo giovane. Questo è il miracolo che ci ha portato a quel giorno e alla beatificazione. Antonia, ma raccontaci tu quando hai saputo, quando ti hanno contattato dicendo guarda che Carlo in qualche modo ci ha aiutato. Ma guardi, questo sacerdote che diciamo grazie al quale, perché lui fece proprio, essendo parroco, una novena in chiesa, con i suoi fedeli, io gli avevo regalato un pezzettino di stoffa che aveva toccato un pigiama di Carlo, quindi neanche una reliquia così, era proprio... però lui con la sua fede, con la sua perseveranza, siccome c'era questo bambino nato con un pancreas deformato dalla nascita, quindi un bambino con gravissimi problemi, sia di... non poteva mangiare solidi, sempre con dolori forti, vomitava spesso, ecco una vita veramente impossibile e anche un intervento sarebbe stato, diciamo, molto rischioso, perché poteva perdere proprio la vita, quindi non c'erano molte possibilità. E allora lui ha fatto questa novena, al terzo giorno il bambino, tornando a casa, ha detto mamma io voglio mangiare, ha mangiato, non si è sentito male, e sono andati poi a fare subito i controlli, le tacche, il pancreas era completamente risettato, perfetto. Certo, è stato uno dei miracoli, diciamo, noi avevamo una rosa di miracoli da scegliere e abbiamo, diciamo, preso questo che ci sembrava quello molto interessante, anche perché il Brasile è un paese dove c'è il più alto numero di giovani nel mondo e quindi io ho pensato che forse poi il fatto che la morte di Carla è avvenuta il 12 ottobre, che è proprio la festa della Madonna Apparecita in Brasile, secondo me non era casuale e quindi siamo andati avanti con questo miracolo e poi insomma abbiamo avuto il parere positivo dei medici, di tutta la commissione teologica. Certo, diciamo, adesso da quando è morto continuiamo a avere tante sennellazioni di possibili miracoli e vedremo adesso la congregazione, cosa, speriamo che uno di questi possa portarci alla canonizzazione. io vedo che Carlo comunque i miracoli fisici, per carità, tanta gente mi scrive adesso proprio pochi giorni fa mi è arrivato un ragazzo la segnalazione di un ragazzo con tumore al cervello inoperabile, un cancro che gli hanno dato pochi giorni di vita, gli hanno poggiato una piccola reliquia di Carlo e il cancro è sparito completamente. Ecco, per esempio questo per dirle è uno dei recenti, ecco, però quelle che sono le grazie secondo me che Carlo fa più importanti sono quelle della conversione del cuore perché io penso che come diceva Carlo la vita eterna è la cosa più importante perché poi il mondo passa siamo pellegrini ciò che resta è quello che sarà il nostro bagaglio il nostro tesoro di come avremmo amato Dio il prossimo e quello ci darà la nostra diciamo beatitudine eterna e soprattutto la fede ecco con un tempo così difficile dove a volte la fede vacilla io credo che ecco tutte le seleniazioni di persone che si sono riavvicinate a Dio grazie all'esempio di Carlo e poi un tramite per Gesù io credo che quello sia la cosa più bella per me per quanto mi riguarda io mi unisco a questa chiacchierata perché siamo partiti questa mattina dicendo che il libro si chiama Il segreto di mio figlio perché Carlo Acutis è considerato un santo noi sappiamo che questo libro l'hai fatto per far conoscere meglio alle tante tantissime persone che sono devote a Carlo per far conoscere meglio tuo figlio per rivelare alcune cose per raccontarne altre per farlo conoscere a tutto tondo e allora vogliamo sapere perché il segreto e qual è il segreto della sua santità fra poco dopo la pubblicità questo oggi è di buon mattino lo vedete stiamo ricordando Carlo Acutis una figura di santità ma stiamo anche conoscendo la storia di una mamma una mamma che ha a che fare con la santità di un figlio che è Antonia Salzano il libro che hai scritto si chiama Il segreto di mio figlio perché Carlo Acutis è considerato un santo ci aiuti a entrare un po' in questo segreto Antonia? Sicuramente dal punto di vista di una mamma di un genitore che ha vissuto ecco ci sono stati scritti tantissimi libri anche in tutto il mondo però io ci tenevo a fissare alcuni punti anche cose un po' inedite che non sono state raccontate in quella che è stata la prima biografia di Carlo del postulatore dottor Nicola Gori che è un libro bellissimo però ovviamente non potevamo raccontare tutto ma poi era proprio all'inizio prima che Carlo venisse addirittura diventasse servo di Dio quindi e allora ci tenevo a far tutti i devoti a far capire quali sono stati ecco i punti salienti alcuni tratti ho voluto come delle pennellate in un quadro ecco dove per far capire quello che era un po' il vissuto di Carlo quotidiano quelle che erano un po' le cose che hanno preceduto la sua morte così improvvisa così inaspettata ecco e poi anche alcuni diciamo riflessioni gli appunti che lui siccome lui ha fatto l'aiuto catechista e il catechista che lui si preparava poi aveva fatto queste mostre speciali tra cui quella sui miracoli eucaristici che sta andando in tutto il mondo ma anche alle altre mostre quindi era un ragazzo molto attivo anche nel nel computer e non per niente Papa Francesco l'ha voluto citare in tre paragrafi della Christus Vivit come esempio per come ha utilizzato internet come ha saputo annunciare diceva che Papa Francesco ha detto che è un influencer di Dio in effetti è vero ecco quindi ci tenevo un po' a mettere qualche punto così in evidenza cosa che magari è sfuggito in altre biografie Antonia noi abbiamo un po' raccontato quello che è stato Carlo quello che ha lasciato a tante persone per tante persone e te lo dico perché ci scrivono è stato una luce è una luce perché entra nelle case con il sorriso perché unisce generazioni tra i nonni e i ragazzi perché riesce a portare quel qualcosa in più come dicevi tu Papa Francesco lo definisce l'influencer di Dio a te però ha lasciato un peso grosso una gatta da pedale bella grande hai un'eredità da portare avanti il fatto che ti abbiamo qui oggi è comunque parte dell'eredità che Carlo ha lasciato a te ma sicuramente lo facciamo col cuore perché se possiamo aiutare le persone attraverso Carlo che è un tramite è un punte per arrivare a Gesù lo facciamo veramente volentieri ecco poi Carlo amava profondamente la Chiesa per lui aveva proprio a cuore il Papa la Chiesa i sacerdoti ecco quindi quello che ha fatto l'ha fatto veramente per la Chiesa ecco e quindi anche io diciamo come lui amo la Chiesa e lo faccio veramente perché penso che in questo mondo come ha detto lei è un faro di luce che ti possa aiutare ecco poi soprattutto uno che ha vissuto quelle che sono le tentazioni che viviamo noi il mondo che viviamo noi quindi sicuramente Carlo può aiutarci ecco può essere un esempio un input no poi in fondo ha fatto una vita semplice i sacramenti la parrocchia ecco cioè in fondo noi abbiamo a portata di mano dei tesori straordinari ecco che però a volte non ci rendiamo conto e quindi Carlo non ha fatto altro che magari valorizzare no far capire veramente i tesori che abbiamo ecco come l'Eucaristia la confessione ecco che sembrano cose scontate ma sono cose straordinarie le cose come diceva lui più soprannaturali che abbiamo sulla terra ecco Carlo continuerà a essere quel faro perché lo è stato naturalmente e continua a esserlo l'impegno nostro sarà quello di curare quel faro come l'impegno tuo Antonio noi ti ringraziamo per essere stata qui quest'oggi per averci raccontato Carlo in quelle pieghe che ancora sono da conoscere e speriamo appunto di averti nuovamente qui per continuare perché non si finirà mai di conoscere queste pieghe grazie per essere stata con noi grazie a voi grazie ti dicevi poco fa che grazie a voi grazie a voi